E voglio fare la protamazione che non c'è stata, che si realizza soltanto attraverso la crescita di nuove classi dirigenti e non semplicemente con l'abbattimento di quelle precedenti. Parole applaudite che in qualche caso hanno provocato anche commozioni quelle del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, che ieri sera si è presentato alla sua città come candidato alla Segreteria Nazionale del PD. Una sala d'antegremita di iscritti, vecchia guardia della sinistra, giovani ma anche tanti cittadini. Orlando sa che la sfida sarà soprattutto quella con Matteo Renzi, ma ha sottolineato la sua candidatura non avviene contro qualcuno, ma per unire. E si è scusato per l'immodestia quando ha spiegato di avere le carte giuste per guidare il partito. Ecco, io penso che se guiderò il Partito Democratico lo lo scerò meglio di come l'ho approvato. Non tutti quelli che mi hanno preceduto possono andare anche sempre. E perché credo di avere le qualità per vincere questa sfida. Io non voglio fare l'esponente della sinistra che si cambi da ammirare il Partito Democratico. Io voglio fare il Partito Democratico. Secondo il Ministro il PD è prigioniero di un algoritmo oscuro dove sembra più importante confliggere con i propri compagni che con gli esterni. Per capire il populismo Renzi non doveva andare in California, proseguito, ma in Michigan dove gli operai hanno votato Trump. Necessario mettere al centro del discorso politico il tema dell'eguaglianza come ha fatto Papa Francesco. Sullo strappo con i fuoriusciti dal PD, Orlando è convinto che si debba continuare sul dialogo. Noi dobbiamo fare di tutto per continuare fino all'ultimo momento a coltivare la via dell'unità. Dopodiché se questo non sarà possibile dobbiamo rivolgerci non più ai gruppi dirigenti ma ai militanti, agli elettori, dicendo che è una cosa molto semplice, che le divisioni nella sinistra hanno sempre agevolato la destra. Sulle amministrative spezzine la linea non cambia, occorre un nome che unisca senza muro contro muro. Non esiste nessun muro da parte mia, io penso che sia meglio quella strada, se invece se ne vuole percorrere un'altra segnalo che si devono organizzare per fare le primarie. Nella sua città natale poi cerca la sfida, nella sfida il sostegno dei renziani. Lo do quasi più scontato. Una riflessione anche sul tema del lavoro e del Job Act che Renzi ha rilanciato con l'idea del lavoro di cittadinanza. Io farò una proposta in proposito nei prossimi giorni. Credo che sia la questione cruciale per la quale abbiamo pagato, non avendola risolta, abbiamo pagato anche un prezzo molto alto in termini elettorali e di divisione sociale. Credo che sia importante però invece sul fronte del Jobs Act fare una seria valutazione di che cosa ha funzionato e delle parti che invece hanno funzionato meno.